Italia e Spagna sono decise a mantenere l'integrità e la stabilità della zona euro e faranno tutto ciò che è necessario per proteggerla. È quanto hanno affermato Mariano Rajoy e Mario Monti al termine dell'incontro a Madrid. Entrambi i paesi sono alle prese con la crisi del debito sovrano. Stiamo mettendo in atto tutti gli strumenti che ci permetteranno di stabilizzare i mercati finanziari in modo che le misure di consolidamento fiscale e le riforme strutturali comincino a produrre i loro effetti prima possibile. Anche se per il quarto mese consecutivo gli iscritti al collocamento spagnolo sono in calo, in Spagna c'è il numero più alto dei senza lavoro.